Buongiorno, sono Donato Turba. Bentornati con gli appuntamenti della carne bovina francese. Oggi parliamo della noce. La noce è un taglio di carne situato nella parte posteriore dell'animale, all'interno della coscia. Si presenta con una forma rotonda ed è composta da tre muscoli. La pancia di noce, la copertina di noce e il girello. Dopo una toilettatura superficiale per eliminare il grasso e il tessuto connettivo, si procede al sezionamento su due lati ricavando la pancia di noce. Questo muscolo è particolarmente indicato per spezzatino, macinato o arrosto. Ricaviamo ora la copertina della noce. La preparazione del muscolo consiste in una toilettatura superficiale e un'incisione longitudinale sezionando la copertina della noce dal girello di noce. Dal taglio della copertina di noce si preparano generalmente bistecche, involtini, fettine alla pizzaiola. Terminiamo con il girello di noce. Questo muscolo presenta una percentuale di grasso molto bassa. Prima deve essere eliminato il nervo centrale, aprendo il pezzo dalla parte dell'anca. Il girello di noce può essere utilizzato per tagliate, carpacci o rosti all'inglese. Grazie per averci seguito. A presto!